Volevo approfittare di questo video per invitare a risparmiare, a risparmiare sì, a risparmiare i soldi, i soldi per i botti. In questo periodo di grande crisi perché spendere i soldi per i botti. Fate una bella cosa per risparmiare. Acquistate le scatolette di cibo per i cani e gatti meno fortunati. Sicuramente compilete un gesto di grande cuore e soprattutto farete più rumore di uno stupido botto. Ve lo dice uno che ama i cani. Sono i nostri angeli. Non fategli del male. Eccoli. È vero Zeus? Vi voglio bene a tutti.